ciao a tutti dal vostro ice e bentornati o benvenuti sul mio canale allora eccomi qua ragazzi sono su assassins creed mirage e vi porto la video guida a risolvere tutti gli enigmi che ci sono nel gioco ce ne sono 12 in totale e guardate quello che vi manca sotto in descrizione al video trovate tutti i nomi dei singoli enigmi eccetera eccetera quindi andate a cercare quello che vi manca piccolo dettaglio città rotonda andiamo qua troviamo il cartografo potete acquistare le mappe per svelare la posizione dei forzieri attrezzatura enigmi e libri perduti per quanto riguarda gli enigmi vi indica la posizione iniziale ma non quella finale quindi bisogna sempre risolverli guardate la video guida quello che vi serve andate a prenderlo allora qua partiamo con il primo vi indico la posizione a quella iniziale e quella finale almeno facciamo la cosa completa state qua in questo edificio e lo trovate qua è sempre indicato sulla mappa quindi basta che andate lì e lo raccogliete non servono tanti dettagli per dove andare a trovare il punto iniziale dell'enigma poi andiamo nell'inventario enigmi eccolo qua questo è ricchezza sacra ci viene indicato al luogo lì cioè questa costruzione qua con le tre croci due qua e una a sinistra tutto l'acqua in giro e quant'altro è collezionabile l'enigma è dietro l'edificio vicino a una pianta ecco qua le due croci lì e una va e ci troviamo esattamente in cima alla mappa proprio tutto in in cima a destra sopra arbia ecco in teoria dovrebbe esser lì gioco molto bello ambientazione favolosa veramente molto bella graficamente top appagante dura un po' poco 40 ore per il platino tempo che ci ho impiegato io è mio stile di gioco quant'altro 40 ore è un po' pochino ecco frutto al valala 120 130 ore mi ricordo di in giro e quant'altro e niente arrivate qua dove c'è questa mega pianta dietro al complesso quando abbiamo appena visto e lì a terra troviamo la soluzione all'enigma ma prendiamo anche il primo trofeo per aver preso il primo enigma non c'è il trofeo per trovarli tutti ma solo uno quindi va bene ecco qua con la pianta qua dietro lì lo trovate lì poi una volta che avete raccolto vi sparisce dall'inventario quindi questo per tutti adesso lo mostro solo una volta e poi basta passiamo al prossimo trovo a calcio quel che ho rubato eccolo qua troviamo vicino alla porta di farò vedere un po' meglio tra un attimo comunque una volta che fate la sincronizzazione del punto è pure andati in giro con l'aquila non potete mancare queste cose qua taggate è andata a prenderli eccolo qua nell'inventario a enigma trovo quel che ho rubato non sto qua a leggere tutto tanto quando lo raccogliete leggete voi ecco qua sono già in zona della soluzione finale dell'enigma ci troviamo esattamente Arbia al distretto dei saponieri qua c'è il ponte distretto dei saponieri qua esattamente lì c'è anche un forziere attrezzatura lì al ponte di lì al distretto dei saponieri avete qua trovato questo gazebo in legno e lì dentro trovate la soluzione all'enigma poi ogni enigma vi da delle ricompense colori e tinte per completi talismani passiamo al prossimo abbandono ponteggi cedevoli porterò la video guida riguardo modo per farlo molto semplicemente senza dove stare lì a cercarli tutti e venti entrate qua questo edificio e qua trovate l'enigma eccolo qua ci troviamo esattamente Arbia Arbia ce ne sono tre in totale da trovare punto iniziale dopo i punti finali magari sono in altri luoghi ma comunque qua laboratorio metallurgico venite giù e lì bam e un po' vedere cosa dice inventario abbandonato eccolo qua c'è un piccolo villaggio gli uccelli che volano e lì in basso a destra eccolo qua villaggio abbandonato proprio abbandonato come diceva l'enigma qui c'è anche una storia di Baghdad è tutto a sinistra della mappa qui c'è la B di Baghdad da terra verso il fiume e lì trovate il villaggio abbandonato andate giù proprio se qui c'è un altro punto di riferimento vabbè e come sempre esagero nei punti di riferimento a volte andate giù proprio in riva al fiume qua dove sto indicando qua c'è il ponte di Molo cos'è poi il ponte che va sul fiume e venite qua e qua trovate la soluzione finale all'enigma preso talismano del leone bicorno bicorne andiamo quanti passiamo al prossimo la mia resa troviamo qua dove c'è questo cimitero tomba qua esterna vicino all'acqua anche la terra selvagge ce ne sono tre di enigmi ecco qua tomba di Zubaida chiedo scusa se non pronuncio bene i nomi mi dispiace scusate ah 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 andate va proprio verso l'angolo e lo trovate lì devo vedere l'inventario cosa dice eccolo qua la mia resa qua sono già al punto finale dell'enigma che parlava di una casa semi sommersa con la cupula eccola qua la cupula la casa semi sommersa e proprio lì dietro allora dallo lì c'è la soluzione finale all'enigma adesso vi faccio vedere sulla mappa dove sono esattamente sono a Uqbara proprio tutto in alto a destra della mappa qui c'è l'oasi del nord al bar e vabbè terzo il barge del nord andate su proprio in cima in cima in cima tutto a destra potete fare rientro lì andar su e via andate proprio nel quello edificio lì che vedete più esterno più verso l'acqua possibile voilà talismano del ribelle perfetto passiamo al prossimo delizia presso la cupula qua troviamo l'enigma adesso vediamo anche sulla mappa eccolo qua no vado direttamente all'inventario va bene allora qua delizio presso la cupola e questo è il disegno la cupola il fiume da sinistra e lì in basso a destra bisogna raccogliere completare l'enigma si sono proprio giù davanti alla cupola eccolo qua cupola dell'asino che si trova a Abbassia proprio quasi sul confine con le terre selvagge c'è anche un punto di osservazione io mi trovo qua davanti alla cupola mette giù qua sotto la trovate subito qua a destra di questo mini gazebo cupola che avete visto andate lì e lo raccogliete perfetto delizio ha presso la cupola completato andiamo al prossimo un omaggio dalle rovine andiamo qua in questo edificio dove c'è anche il cadavere a terra Yari Yaraia troviamo lì nella le terre selvagge in basso a sud a destra e lo trovate lì andiamo un po' a vedere cosa dice eccolo qua un omaggio dalle rovine e c'è questo disegno qua le rovine di davanti è la soluzione dell'enigma lì a destra eccomi qua tra che te qua c'è anche un sito storico da scoprire e si trova proprio in fondo in fondo alla mappa tutta a sud delle terre selvagge la soluzione delle mamma mia ragazzi ce la posso fare la soluzione dell'enigma è lì dove sono io adesso dove c'è Basim vedete qua in fondo in fondo alla mappa tutto a sud serve una visione più ampia ecco lì ci sono le rovine e da questa parte c'è questa pianta qua mezza sgaghera da lì qua ci sarà anche un serpente che vi aspetta voglio farvi una festa terra gite e via un omaggio dalle rovine completato prendiamo talismano arcano siamo al prossimo gioia sotto le palme piangenti troviamo qua sotto questo gazebo in sasso in cemento in terracotta che sia proprio fuori dal confine con kark le terre selvagge diamo un po' a vedere cosa dice eccolo qua gioia sotto le palme piangenti e ci viene mostrato un luogo tre gruppi di palme lì a destra ci viene indicata la palma le palme la palma sì dove dovrebbe essere poi vediamo la riga che va là verso il gruppo piccolo di palme lì a sinistra del disegno eccolo qua qua c'è il gruppo grande qua dove abbiamo raccolto l'enigma praticamente andate giù quasi dritti questo è il gruppo grande di palme e a destra c'è quello medio e qua sotto c'è quello piccolo ecco andate quasi al centro qua ci sono degli edifici andate giù lì al centro oppure potete fare il rientro qua punto di osservazione se l'avete sbloccato andatela a destra dice c'è c'è del legname là a destra a sinistra e raccogliete giù sotto le palme piangenti completo occulto verde andiamo al prossimo un veloce compito da risolvere troviamo qua sulla panchina esattamente vicino al circolo degli ufficiali nella zona Kark sopra la lacca di Kark lì quella zona lì trovate il circolo degli ufficiali e lì vicino c'è l'enigma a Kark ce n'è solo uno di enigma adesso andiamo a vedere cosa ci dice eccolo qua un veloce compito da risolvere eccolo qua qua siamo al punto dove risolvere l'enigma eccolo lì qua ci veniamo anche durante una storia di Baghdad che ci manda proprio qua in questa zona ci troviamo le terre selvagge dalla zona le palme due gruppi di palme quello grande colo medio lì terre selvagge del sud qua c'è Yariyaraia mamma mia andate su qua e via un veloce compito da risolvere completo occulto oro perfetto passiamo al prossimo che è un dono per voi troviamo qua dentro in questo edificio dovete scendere qua col coltello da lancio aprire la finestra che c'è di là qua c'è anche storia di Baghdad andate qua su questo specie di divano troviamo il codice l'enigma il codice eccolo qua lì vicino c'è la casa di Al Jaitz va dietro una città rotonda raccorto vediamo un po' cosa ci dice eccolo qua un dono per voi qua siamo già alla zona dell'enigma finale corte di appello sempre nella città rotonda guardando la mappa è a destra della corte di appello qua ci sono le due cose due cupule qui sopra ci sono appunto le due cupule che abbiamo appena indicato tutti giù qua c'è questa specie di fontana vuota la tele interagite è un dono per voi completo talismano del beduino andiamo al prossimo i giusti riconoscimenti troviamo qua su questo tavolo adesso vediamo anche dove proprio sopra la porta di bassora nella città rotonda lì in zona anche del cartografo eccolo qua i giusti riconoscimenti e si viene mostrato questo l'edificio con due bandiere sopra e a sinistra c'è lì quel focolaio chiamiamolo così qua ecco vediamo le due cupule il focolaio è lì e qua davanti c'è il piccolo cortile dove dobbiamo andare per prendere e completare l'enigma quartier generale delle guardie la città rotonda basso a destra basso a destra basso centrodestra quartier generale generale delle guardie lì la città olai giusti riconoscimenti completo cavaliere abbasside nero passiamo al prossimo una sfida troviamo qua abbassia vicino a confine con le terze selvagge dall'ovest e a siri e a siri e è lì questa pianta la piazza salito qua sopra sulla terrazza di questa casa questo edificio e lì lo troviamo andiamo a vedere cosa ci dice olai una sfida ti credi persone di ingegno sì qua c'è l'isola separata dall'acqua lì come c'era scritto abbassia porta di tahir ma questa sarebbe un'isola e l'acqua che separa l'isola lì come c'era scritto niente esattamente qua qua c'è una ruota del mulino di là c'era un'altra anche lì diceva ci sono tante ruote guarda lì vedrai le ruote lì c'è il ponte qui c'è l'altro ponte rotta del mulino l'altra ruota e dobbiamo entrare lì per entrare lì dovete tirar giù la finestra che c'è lì con un coltello da lancio dovete venire qua questa finestra dittatela da dietro andate lì sotto e lo trovate guarda voi perfetto una sfida enigma completato rostam nero passiamo all'ultimo troviamo Abbassia il dono dodicesimo e ultimo enigma eccolo qua qui c'è anche commerciante musicista proprio vicino a confine con le terre selvagge giusto una sbirciatina raccolto andiamo poi a vedere cosa dice il dono si maneggerà questa sappi che mi manchi ecco lui la tirata giù la buttata in acqua è arrivata fin qua dove c'è la G di Baghdad le terre selvagge qua c'è anche un punto di osservazione se l'avete sbloccato potete fare rietro lì e andare su verso la G di Baghdad dove c'è quel fiume e qua trovate anche un ponte che è il ponte che diceva nel corso dell'enigma e andate esattamente lì questo è il ponte là c'è il rientro tutta l'osservazione casomai guardate giù lì vicino a sinistra del sasso e lì lo trovate ragazzi questo era l'ultimo enigma mi raccomando come sempre lasciate un mi piace se vi piace iscrivetevi richieste commenti eccetera eccetera e noi ci sentiamo nel prossimo video sempre in Assassin's Creed Mirage un mirage un mirage ciao ragazzi al prossimo video playstation grazie a tutti